Il Kali Yuga è l'ultimo ciclo di una più ampia linea temporale di 4 Yuga che traccia l'evoluzione della coscienza sul nostro pianeta. Il nome Kali Yuga, allude all'oscurità e all'ignoranza primordiale che caratterizzano questa epoca. Si ritiene che sia iniziata intorno al 3102 a.C., anche se la data precisa è discussa dagli studiosi. Gli induisti descrivono ogni Yuga in termini di deterioramento, dove la virtù, la saggezza e le capacità umane, continuano a ridursi fino a raggiungere il Kali Yuga, dove sono al punto più basso. Si dice che questa lunga epoca di declino spirituale, sia durata 432.000 anni, dopodiché il ciclo ricomincia dal Satya Yuga, l'età dell'oro. Sebbene questo enorme lasso di tempo possa sembrare simbolico, gli antichi Yuga erano basati su un'astronomia accurata, e sui cicli cosmici. All'interno del ciclo di 432.000 anni del Kali Yuga, ci sono fasi di relativa luminosità e oscurità. Attualmente ci troviamo in un periodo di transizione crepuscolare, al culmine della parte più buia e caotica del Kali Yuga. Per quanto occupa, questa zona crepuscolare e volatile, segnala in realtà che il ciclo sta volgendo al termine. Contiene un immenso potenziale di evoluzione della coscienza, di scoperte spirituali, e di una nuova era d'oro per l'umanità. Comprendere il contesto più profondo del Kali Yuga, ci permette di lavorare consapevolmente con le sue energie. Possiamo ancorarci alla verità senza tempo, e accelerare il nostro risveglio, rimanendo centrati in mezzo all'agitazione. Il crepuscolo è il momento in cui la notte si trasforma in giorno. Dalle tenebre emergerà la luce. Evoluzione della coscienza. Siamo in una fase potente e accelerata di evoluzione della coscienza. Mentre l'era del Kali Yuga volge al termine, l'intensità delle energie cosmiche attiva il DNA dormiente, e accende un risveglio in tutto il pianeta. Questa sinfonia cosmica di energie, annuncia un risveglio di portata senza precedenti, che attraversa il mondo e illumina le menti e le anime, con una consapevolezza e uno scopo ritrovati. Sempre più persone si stanno elevando a livelli più elevate di consapevolezza, e stanno ancorando stati di coscienza espansi. Questo risveglio spinge gli individui a intraprendere un viaggio di autoesplorazione, e di crescita spirituale, che porta a profonde realizzazioni sulla propria identità e sulla connessione con l'universo. In questo processo evolutivo dinamico, gli individui sono invitati ad allinearsi con il flusso delle energie cosmiche, e a partecipare attivamente alla propria evoluzione spirituale. Questo cambiamento di coscienza sta trasformando la vita sulla Terra dall'interno. Lo vediamo nella crescente influenza dello yoga, della meditazione e delle antiche tradizioni spirituali, che mirano all'unità, all'amore incondizionato, e all'illuminazione. Le persone cercano dentro di sé, e si connettono alla loro quiete interiore come mai prima d'ora. Coltivando uno stato di ricettività e apertura, possono sfruttare il potere trasformativo di queste energie per facilitare la crescita personale e la guarigione. Quando gli individui si risvegliano a stati di coscienza più elevati, iniziano naturalmente a percepire l'interconnessione di tutta la vita, e l'importanza di vivere in armonia con il pianeta. Quando un numero maggiore di persone si risveglia alla propria divinità intrinseca e all'interconnessione, si crea un effetto a catena che amplifica il cambiamento di coscienza collettivo, e catalizza un cambiamento positivo su scala globale. Questa nuova consapevolezza, ispira un cambiamento collettivo verso modi di vita più sostenibili e compassionevoli. Le comunità si uniscono per co-creare un mondo radicato nell'amore, nella compassione e nell'unità, dove il benessere di tutti gli esseri e della Terra, è prioritario. Attraverso sforzi collaborativi e visioni condivise, l'umanità intraprende un viaggio verso un futuro più luminoso e armonioso. L'aumento dei brillamenti solari e dell'energia fotonica negli ultimi anni, ha attivato parti del nostro DNA, un tempo dormienti. Questo sta permettendo alle abilità e alle sensibilità nascoste, di entrare in funzione, quello che alcuni chiamano il nostro potenziale sovrumano. Stiamo sviluppando nuovi modi di pensare, sentire, percepire e interagire con l'universo e con gli altri. La frequenza e la vibrazione della nostra coscienza, stanno aumentando costantemente. Laddove un tempo ci sentivamo separati e soli, ora percepiamo la nostra profonda interconnessione. Questa crescente consapevolezza collettiva, aprirà la strada a una maggiore compassione, armonia e pace sulla Terra. Le prove di questo periodo crepuscolare non sono senza scopo. Ci spingono a espanderci verso una maggiore saggezza, potere e comprensione di chi siamo veramente, e perché siamo qui. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.